ciao sono elisa dettore ho 35 anni sono di genova sono mamma di ginevra di tre anni sono sposata con luca e nella vita di tutti i giorni sono segretaria di un studio autogliatrico dove mi occupo dell'organizzazione dello stesso e del marketing sono una persona molto attiva e dinamica e alla ricerca costante di adrenalina questo ha fatto sì che io facessi molte esperienze nella vita e la prossima che vorrei fare lancio col bar a cadute adoro viaggiare e questo ha portato ginevra a fare battesimo del volo che aveva solo quattro mesi e sono alla ricerca sempre del mio prossimo viaggio amo la montagna sia d'estate che d'inverno e sono una sportiva scio e vado a cavallo mi piace molto imparare e questo fa sì che io sia una persona in continua formazione e quindi crescita personale come quasi tutte le donne anche io i miei rituali di bellezza ogni mese vado a fare la manicura estetica perché mi piace avere le mani in ordine e mi piace prendere molto cura dei miei capelli quando riesco generalmente una volta all'anno vado alle terme con le amiche e ultimamente mi sono anche iscritta in palestra per cercare di mantenere il fisico in forma complice il lavoro una parte che curo molto è il mio sorriso e mi piace avere denti bianchissimi e ogni volta che riesco faccio un trattamento estetico dal dentista per me è molto importante guardarmi allo specchio e piacermi quindi complice anche il fatto che lavoro a contatto con il pubblico mi piace sempre essere molto ordinata ho deciso di partecipare a miss mamma italiana web perché l'estate scorso ho partecipato a una selezione regionale di miss mamma tradizionale e mi sono divertita parecchio perché comunque sia mi piace mettermi in gioco e anche per cercare di prendermi una soddisfazione personale e anche per cercare di prendermi una soddisfazione personale per cercare di prendermi una stopdisfazione personale.it Lui è Mirage Votatemi perché Perché sarei onorata di rappresentare un modello di mamma Che sa conciliare famiglia, lavoro, sport, passione, divertimento Una mamma che comunque pensa in grande ma sa essere semplice Ciao a tutti